Siracusa anti-covid, le volanti, bar, viola, DPCM chiuso per 5 giorni. Nell'ambito dei controlli finalizzati al rispetto delle normative anti-covid, il 18 marzo scorso agenti delle volanti avevano sorpreso all'interno di un bar e nella zona alta della città, 19 persone assembrate, intente a consumare bevande e a giocare a calcio o balilla, in violazione delle vigenti regole. Gli avventori erano stati sanzionati amministrativamente come anche i titolari dell'esercizio commerciale. Ieri gli uomini diretti dalla dottoressa Guarino, a conclusione dell'attività amministrativa, hanno notificato dai proprietari del bar la sospensione dell'attività commerciale per 5 giorni, così come disposto dal questore di Siracusa.